Rosso di Montalcino di Castiglione del Bosco è un vino fatto con le uve sangiovese che vengono dal nostro vigneto Gaugiole. È un vino pensato in vigna nel senso che noi facciamo una vendemmia anticipata rispetto al vigneto per i Brunetti che il nostro lavoro vuole distinguersi al maggiore quindi puntiamo molto sull'acidità, sulla freschezza del vino. Rosso di Montalcino San Giovese 100%, nel nostro caso fa 6 mesi di legno e 6 mesi di bottiglia anche se da disciplinare potrebbe non fare legno. Il 2014 è un vino che rappresenta perfettamente l'annata, un'annata molto fredda, tante piogge, temperature fresche, nebbie. Un vino dalla facile beva, grande frutto, croccante, freschezza, molto piacevole. Fresco, leggero, grandissima beva, può essere abbinato sia in aperitivo, un antipasto, un primi piatti, carni. Ovviamente poi per le carni rosse o piatti più strutturate ci sono i Brunelli.